Arte, arte. Alda Mirini ci ha suggerito di averne cura, di lottare ed essere un po' grati per questa fortuna di noi italiani seduti sulle pepite d'oro, di testimoniare con il nostro impegno, con il nostro cuore-mente, l'amore per l'arte, l'amore per la cultura. L'arte per definizione è espressione, l'espressione è figlia della democrazia, quindi c'è un cortocircuito che dovrebbe riprendere piede. Diciamo che la grossa sfortuna in questo periodo storico che è così faticoso e che naturalmente, essendo considerato quasi un bene di lusso, non è fondamentale e non è intesa esattamente come un momento necessario per la crescita del paese. Siamo stati un pochino anestetizzati, siamo stati frustrati, siamo stati avviliti da quello che è successo negli ultimi vent'anni, però ci sono sacche di resistenza culturale che fanno assolutamente ben sperare. Musica Non c'è democrazia senza cultura e quindi se vuoi alimentare la democrazia devi alimentare la cultura, a cominciare dalle scuole, passando poi per questo teatro, montagne di denaro ci sono ma non servono alla democrazia, servono ad altri, servono ad altro e il compito della politica, della politica nella quale noi crediamo dovrebbe proprio essere principalmente riacciuffare queste montagne di denaro che ci sono nei traffici illeciti, nell'evasione fiscale, nella corruzione, nei soldi sprecati, in investimenti che non servono e non sono prioritari, nelle guerre, riacciuffare questi soldi e di metterli a servizio della democrazia e quindi della cultura. L'unico modo per non fare più utile idiota è crescere nella nostra capacità politica, nella nostra forza rappresentativa e nella nostra capardietà che noi non scendiamo da questo treno in corsa ma vogliamo guidarlo e guidarlo meglio di come è stato fatto deragliare fin qui. L'unico modo per non fare più utile